Buongiorno Archiderio di Melosolo, Archiderio di Medicina per l'Anima, vi ricordo sempre il nuovissimo libro Archiderio di Storia e Personaggi pubblicato nel mese di dicembre 2020, ha tre grandi pregi, costa poco, è semplicissimo, l'ho scritto io, questo costa 25 euro, questo invece costa 2 euro e mezzo, questo è stampato con le fotocolori perché è stampato tradizionalmente, questo invece è fatto con print on demand, cioè un ordine libero, glielo stampano e glielo mandano. Oggi vediamo, abbiamo fatto tanto tempo fa, come si invasano le orchidee simpodiali, quelle che vanno in una sola direzione, come questa, questa è una catreia, vedete, questa è la parte vecchia, questa è la parte nuova, questa va da questa parte, di qui, cioè, bisogna che lo mettiamo in mezzo vaso, ve lo mettiamo, le radici sono belle, sono sode, per cui non lo siamo così come sono, togliamo solo questa che ha la punta andata, questa qui invece è bella, allora, a differenza delle altre che le metteremo in centro del vaso, questo lo metteremo contro di qua, vedete, in modo che abbia spazio davanti, cioè questa è la parte vecchia, di qui non va l'H3, vado da questa parte, ovviamente, per cui qui ha tutto questo spazio qua, ha questo spazio qua che può stare i prossimi tre anni, le prossime tre vegetazioni, in modo che tra tre anni sarà l'ora di cambiare il bar che anche di cambiare, cioè anche il vaso sarà pieno, per cui si mette appunto contro di qua e lasciare il più spazio possibile davanti, e si riempirà di corteccia solo questa parte, invece dietro si va solo a mettere qualcosina così, ma soprattutto qua che va riempito, in modo che ha tutto lo spazio per andare davanti, almeno qui due, anche tre anni si sta ancora in questo vaso. Tutte le simpodiali, mentre le simpodiali si piantano sempre in centro al vaso, perché è un piede solo, le simpodiali che camminano, quando vanno in una sola direzione come questa, si fa così, quando invece vanno in tante direzioni, allora si pianta in mezzo anche quelle, ma quando vanno in una direzione sola, si fa così, cioè si pianta contro il bordo del vaso, lasciando il più spazio possibile davanti. Ok, a domani!